La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha proceduto all'arresto di quattro soggetti gravemente indiziati dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa perizia. Due di essi sono sotto la lente degli inquirenti per falsa testimonianza e frodi alle assicurazioni. Le indagini hanno permesso di accertare che l'imprenditore imputato, con l'ausilio di un avvocato, ha posto in essere due frodi ai danni di compagnie assicurative in materia di sinistri stradali, anche mediante il ricorso a false testimonianze e perizie di ufficio compiacenti. Dalle indagini è emesso inoltre che i due consulenti tecnici d'ufficio, in cambio della dazione o della promessa di somme in debito e di denaro, hanno redatto delle false perizie, finalizzate a truffo ai danni delle compagnie assicurative, attestando danni a cose e a persone non rispondenti al vero. Contestualmente all'esecuzione dell'ordinario di finanza cautelare si è proceduto a perquisizioni presso le abitazioni e gli studi professionali dei suddetti indagati, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova in ordine reati.